Sergio, siamo arrivati alla conclusione di questa serata, l'edizione numero 2, innanzitutto come è andata? Beh, direi che è andata veramente bene, siamo molto soddisfatti, una serata meravigliosa in un'ambientazione unica, sicuramente si può migliorare ma quest'anno direi che abbiamo fatto veramente tanto. Possiamo dire che abbiamo portato per la prima volta il mondo dei cavalli qui a Portofino? Sicuramente sì, questo è un bel primato che ci teniamo molto stretti, dobbiamo ancora realizzare qualche sogno nel cassetto però questo almeno l'abbiamo messo avanti. Tanti gli ospiti qui questa sera, anche chi sta lottando, sta andando le forze proprio per cercare di risollevare il mondo equestre e dare un aiuto ai nostri cavallieri e alle nostre amazzoni per continuare a gareggiare sui campi gara di tutto il mondo? Beh, sì, l'equitazione d'Italia sta vivendo un momento difficile però dai momenti difficili che poi ci sono le grandi rinascite. Noi ci crediamo tanto, stiamo investendo tanto tempo, risorse per far sì che i grandi brand capiscano e si avvicinino a questo sport e allo spirito che questo sport rappresenta, al sistema valoriale che questo sport rappresenta e sicuramente ce la faremo tutti insieme a riportare l'Italia tra le grandi del mondo. Ci sarà anche l'edizione 2015? Sicuramente sì, l'anno prossimo cercheremo di stupire ancora tutti con una location particolare e speriamo che i brand che ci hanno accompagnato quest'anno siano nostri partner anche l'anno prossimo e di aggiungerne degli altri nuovi. Io sicuramente mi impegnerò con Matteo per far sì che questo progetto, questo format vada avanti perché ci crediamo e perché reputiamo che possa diventare un appuntamento fisso per tutti gli anni a venire per i Cavalieri Lamazzoli. Grazie mille Sergio e un grazie anche da parte di tutti gli appassionati del mondo equestre. Grazie a te Marion e grazie soprattutto per la tua professionalità e la tua conduzione che ci accompagna nei nostri eventi. Tu sei una delle persone che lavorano con noi, che rendono possibile la riuscita di questi bei eventi e anche il fatto che comunque le aziende credano in noi perché vedono in noi un'azienda che lavora comunque molto professionalmente. Grazie mille, buona serata. Grazie a te.